Era nascosto nelle campagne di Cerignola, privo di autorizzazione e certificazione. E' stato scoperto dopo aver notato un sospetto via vai di auto, nonostante la zona fosse notoriamente poco frequentata. Così le fiamme gialle della compagnia Ofantina hanno sequestrato un impianto di distribuzione di carburante abusivo, denunciando il presunto responsabile alla Procura della Repubblica di Foggia. Nel complesso sono stati sequestrati 500 litri di gasolio agevolato per uso agricolo, una cisterna in plastica completa di pistola erogatrice, un dispositivo con talitri e il motore di aspirazione. L'impianto abusivo è stato scoperto grazie alle attività di osservazione e controllo condotte sul territorio di Cerignola. I finanzieri insospettiti dal traffico in una zona agricola solitamente poco frequentata hanno monitorato i movimenti di numerose auto che si recavano all'interno di un autoparco sostando per pochi minuti. A quel punto i militari hanno deciso di entrare per verificare quali attività si svolgessero all'interno trovando l'impianto di distribuzione collegato alla cisterna contenente il gasolio ad uso agricolo. Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca è stato risposto dal GIP del Tribunale di Foggia su richiesta del PM. La posizione dell'indagato e al vaglio dell'autorità giudiziaria dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Cerignola fanno sapere che le attività di contrasto alle frodi del settore dei carburanti proseguiranno anche nelle prossime settimane.